Iniziamo lo studio di questo esperimento sulla dinamica rotazionale, è l'apparecchio di rotazione della ditta 3B Scientific. Questo apparecchio di rotazione è composto essenzialmente da un'asta di alluminio sulla quale possono essere montati due pesi, che sono questi due dischi d'acciaio. I due dischi d'acciaio possono essere messi a distanze più o meno grandi rispetto all'asse di rotazione centrale. Cambiando la disposizione di questi dischi d'acciaio cambia il valore del momento di inerzia dell'apparecchio di rotazione. Più i dischi sono larghi, cioè distanti dall'asse di rotazione, maggiore è il momento di inerzia del sistema. L'asta è montata su un perno dove può ruotare con attrito trascurabile. Per far ruotare l'asta si avvolge un filo intorno a questo piccolo cilindro che si chiama mandrino, qua lo vediamo ingrandito e il filo viene tirato giù da questo sistema di pesi in caduta. Qui vediamo il particolare del mandrino con il filo avvolto e la garrucola che poi è collegata ai pesi in caduta non libera. Dal momento che la loro caduta è rallentata dal fatto che deve essere messo in rotazione e poi fatto accelerare tutto il sistema rotante dell'asta con i pesi, con i dischi d'acciaio. Questa è una schematizzazione dell'apparecchio di rotazione visto dall'alto. L'asse di rotazione viene verso di noi, questo è il mandrino, quindi questo cilindretto qua, e la forza F è esercitata tangenzialmente al bordo del mandrino dal filo, dallo spago in tensione. Quindi in pratica questa forza F è la tensione di questo spago. Il mandrino ha un raggio R, in realtà di mandrini ce ne sono due perché si può utilizzare questo più grande che ha il raggio da 9 mm, ma volendo anche quello più stretto che è la metà, ha il raggio di 4,5 mm. Il raggio del mandrino è essenzialmente il braccio della forza, infatti utilizzando il mandrino più largo il momento torcente esercitato da questa forza, cioè dal filo, risulta il doppio del momento torcente invece che sia utilizzando il mandrino stretto. Infatti il momento torcente, in questo caso semplice, è semplicemente il calcolo R per F, cioè il braccio per la forza. Perciò il mandrino con raggio doppio produce un momento torcente doppio. Questo momento torcente mette in rotazione l'apparecchio, quindi l'asta con i due dischi d'acciaio, e lo fa ruotare di modo circolare uniformemente accelerato. In accordo con la legge di Newton rotazionale, momento torcente totale uguale momento d'inerzia dell'apparecchio per l'accelerazione angolare. Infatti noi abbiamo un momento torcente che è costante nel tempo. Abbiamo detto che il momento torcente infatti vale R per F, quindi sono due quantità costanti, il raggio del mandrino e la forza con cui tira il filo, la tensione del filo. Perciò un momento torcente costante produce di conseguenza un'accelerazione angolare costante, cioè un aumento della velocità di rotazione, un aumento che avviene a tasso di crescita costante. Il momento d'inerzia dell'apparecchio di rotazione è dato essenzialmente da due contributi, il momento d'inerzia dell'asta e il momento d'inerzia dei due dischi d'acciaio. In realtà dovremmo anche considerare il momento d'inerzia delle altre parti del sistema rotante e in particolare del mandrino, di questa carrucola che si chiama carrucola di deviazione e dei pesetti in caduta. Ma si può dimostrare che questi contributi sono tutti trascurabili. Dunque in sostanza questo apparecchio ci permette di verificare la validità della legge di Newton rotazionale. Vediamo adesso quali sono le quantità che noi possiamo modificare tra una ripetizione dell'esperimento e l'altra. Abbiamo già detto che possiamo utilizzare due diversi mandrini. Poi possiamo modificare il peso in caduta. Il solo portapesi ha una massa di 10 grammi. I due dischetti grigi hanno una massa da 10 grammi anche loro e il dischetto rosso ha una massa da 20 grammi. Quindi il pesetto in caduta può avere una massa che può essere 10, 20, 30, 40 o 50 grammi. Sono possibili tutte queste combinazioni. Poi possiamo cambiare la disposizione dei due dischi d'acciaio. Non solo possiamo cambiare la loro posizione, cioè la distanza dall'asse di rotazione. Ma abbiamo a disposizione anche dischi differenti. Abbiamo una coppia di dischi d'acciaio da 100 grammi ciascuno, un'altra coppia da 200 grammi e volendo utilizzare tutti questi dischi, entrambe le coppie, possiamo anche avere dischi da 300 grammi in pratica. Quindi possiamo utilizzare coppie di dischi d'acciaio da 100, 200 e 300 grammi. Per tenere fermi questi dischi d'acciaio sull'asta si utilizzano i fermapesi che sono fatti di plastica e hanno una massa di 5 grammi la coppia. Quindi per esempio se questo disco d'acciaio è da 100 grammi, insieme alla coppia dei due fermapesi che lo bloccano, la massa complessiva diventa 105 grammi. Qui c'è tutta la leggenda dei simboli utilizzati. L'accelerazione angolare è indicata anche con omega punto, che vuol dire in pratica la derivata rispetto al tempo della velocità angolare, cioè quanto rapidamente la velocità angolare cambia nel tempo. Cioè il tasso di aumento della velocità angolare, perché ricordiamo che il modo dell'apparecchio di rotazione è un modo circolare uniformemente accelerato. Per realizzare l'esperimento conviene fissare prima il numero di giri da far fare all'apparecchio, per esempio 8 giri o 10 giri e misurare la durata di questi 8 o 10 giri. La conoscenza del numero di giri corrisponde alla conoscenza dell'angolo totale che è stato descritto dall'apparecchio di rotazione durante quei secondi. Infatti per passare dai giri all'angolo, come vedremo meglio dopo, basta ricordare che ogni giro corrisponde a un angolo di 2π radianti, cioè un angolo di 360 gradi. Qui c'è scritto quello che abbiamo appena detto, se l'apparecchio compie n giri, l'angolo totale descritto è n volte 2π radianti, cioè n volte l'angolo giro. Qui c'è riportata la seconda legge di Newton rotazionale che è quella che dobbiamo verificare con questo esperimento. Il momento torcente totale è R vettore F, lo calcoliamo semplicemente il suo modulo attraverso la formula braccio per la forza, quindi R, il raggio del mandrino è il braccio della forza, per la forza stessa. La forza che agisce sul mandrino non è direttamente Mg, cioè il peso di questi pesetti in caduta, ma è la tensione del filo. Infatti sul filo nascono due coppie di tensioni uguali e contrarie, questa è la prima coppia T, queste frecce nere e queste frecce gialle è la seconda coppia T' e siccome il sistema accelera verso il basso, allora Mg, il peso di questi pesetti, supera anche se di poco il valore della tensione T' così da conferire a questi pesetti un'accelerazione verso il basso. A loro volta le tensioni T e T' queste frecce nere e gialle sono leggermente diverse perché la carrucola di deviazione anche accelera la sua rotazione e quindi T' è leggermente maggiore di T. Perciò l'analisi rigorosa delle forze in gioco nel sistema ci porta a dire che Mg è maggiore di T' e T' a sua volta è maggiore di T. Tuttavia queste differenze sono molto leggere, come è dimostrato dal fatto che l'accelerazione lineare di questa massa in caduta è un'accelerazione piccola e quindi con ottima approssimazione possiamo immaginare che questo sistema cada quasi a velocità costante e quindi possiamo approssimare Mg con T' e con T come se fossero tutte forze uguali. Ecco perché qua nell'analisi teorica la forza F che è la tensione del filo, la tensione che tira il mandrino, in pratica si può approssimare con Mg, cioè con il peso dei pesetti in caduta. Si utilizzeranno poi le formule del movimento o del moto circolare uniformemente accelerato che sono la formula della velocità angolare finale, finale dopo che l'apparecchio di rotazione ha percorso questi N giri, quindi dopo un certo tempo T. La velocità angolare finale si trova moltiplicando l'accelerazione angolare, ω punto, per il tempo che è trascorso. Andrebbe aggiunto ω 0, la velocità angolare iniziale che però è 0 perché l'apparecchio parte da fermo. Allo stesso modo l'angolo totale descritto dall'apparecchio di rotazione in quel tempo T che è necessario per compiere N giri, l'angolo totale si calcola un mezzo per l'accelerazione angolare, ω punto, per T alla seconda. Andrebbe aggiunto più ω 0, T, ma ω 0 non c'è perché l'apparecchio parte da fermo. Infine c'è da eseguire il calcolo del momento di inerzia, abbiamo detto che in teoria sono 5 contributi, cioè il momento di inerzia dell'asta, dei due dischi d'acciaio, del mandrino, della carrucola di deviazione e dei pesetti in caduta. Ma in pratica alla fine gli unici due contributi di momento di inerzia importanti non trascurabili sono quelli dell'asta e il momento di inerzia dei dischi d'acciaio con i fermapesi che li bloccano. Il momento di inerzia dell'asta, già conosciamo la formula, un dodicesimo per la massa dell'asta per la sua lunghezza al quadrato. L'asta è lunga 60 cm e la sua massa, misurata con la bilancia elettronica, è di 47,5 g. Poi abbiamo il momento di inerzia dei pesi, cioè dei dischi d'acciaio. Ciascun disco d'acciaio si può considerare come un punto che ruota su una circonferenza a distanza di dall'asse di rotazione. Quindi il suo momento di inerzia di ciascun disco d'acciaio è la massa del disco per la distanza dall'asse di rotazione al quadrato. Questo valore va poi raddoppiato perché i dischi sono due. Facciamo un esempio numerico, immaginiamo dischi da 100 g, ricordiamo che la coppia di fermapesi ha una massa di 5 g, quindi noi approssimiamo questa configurazione, quindi il disco con i due fermapesi come se fosse un punto materiale da 105 g che ruota su una circonferenza di raggio pari alla distanza D dall'asse di rotazione. La distanza D va presa dal centro del disco d'acciaio. Immaginiamo che questa distanza dall'asse al centro del disco d'acciaio sia di 20 cm, allora per calcolare il momento di inerzia di questo disco e dei due fermapesi che lo trattengono, devo moltiplicare la massa 105 g per la distanza 20 cm al quadrato. Poi devo raddoppiare il risultato perché dall'altra parte c'è un altro disco con i fermapesi disposto in posizione simmetrica. L'analisi dinamica rigorosa di questo apparecchio di rotazione è piuttosto complicata. In teoria dovremmo dividere tutto l'apparecchio in tre blocchi, di cui il primo e il più importante è l'asta con i dischi d'acciaio, i fermapesi e il mandrino. Tutto questo sistema ruota sopra a questo perno e quindi dovremmo scrivere la legge di Newton per tutto questo blocco, quindi mandrino, asta, porta i fermapesi e i due dischi d'acciaio. Poi abbiamo la carrucola che è la seconda parte dell'apparecchio di rotazione, la carrucola di deviazione, quindi dovremmo scrivere la legge di Newton per la carrucola e poi abbiamo la massa, i pesetti in caduta, quindi dovremmo scrivere la legge di Newton anche per i pesetti in caduta. Però si può dimostrare che il contributo apportato da questi ultimi due sistemi è molto piccolo e quindi è trascurabile. In pratica con la prima equazione si riesce a ottenere dei risultati molto buoni, quindi un'ottima approssimazione. Perciò in pratica alla fine otteniamo questa equazione approssimata, equazione dinamica, dove abbiamo il momento torcente che agisce sul sistema rotante, che è il raggio del mandrino per i pesetti in caduta, quindi MG. Momento torcente che è uguale al momento di inerzia totale del sistema che in pratica è soltanto il momento di inerzia dell'asta e dei due dischi d'acciaio con i loro fermapesi per l'accelerazione angolare del sistema. Finora abbiamo trascurato la presenza dell'attrito ma in realtà, ripetendo l'esperimento molte volte, risulta evidente un piccolo errore sistematico. Questo errore sistematico per esempio consiste nel calcolare teoricamente quanto tempo serve all'apparecchio di rotazione per compiere un certo numero di giri, per esempio 10 giri. Quindi si calcola il tempo teorico dalle equazioni di Newton e poi si va a misurare sperimentalmente il tempo necessario a fare quei 10 giri e si trova di solito una durata leggermente maggiore, come se l'apparecchio rotasse con una leggera accelerazione angolare leggermente più bassa rispetto a quella teorica. Questo è sicuramente causato dalla presenza di un debole attrito, che è essenzialmente dovuto all'attrito del perno piuttosto che quello dell'aria. Quindi secondo me è più il perno che è responsabile di questo leggero attrito. E proprio dalle leggeri discrepanze tra il tempo previsto teoricamente e quello misurato sperimentalmente che si può anche stimare l'intensità di questo attrito. In una variante dell'esperimento con l'apparecchio di rotazione si può anche misurare l'accelerazione di gravità.